Andrea Prussiano il solito stacanovista, questa volta tallonato dal collega Totò Governanti, Nicola De Gaetano il meno presente. Questo è il bilancio degli ultimi 5 mesi monitorati dal comune di Partinico dei consiglieri comunali impegnati nei loro compiti istituzionali tra seduta d'assise e commissioni consigliari. Emerge una classifica abbastanza ondivaga dove viene fuori che accanto a esponenti del civico consesso super impegnati se ne affiancano altri che invece sono sostanzialmente poco presenti. Il periodo preso in esame è quello che va dal settembre 2015 al gennaio 2016, ultimo pagato dalle casse comunali e quindi monitorato in termini di presenze e assenze. Quasi in contrastato, svetta nella classifica dei più presenti e quindi dei più costosi per le casse comunali Andrea Prussiano con le sue 73 presenze in 5 mesi con una media vertiginosa di quasi 15 sedute tra consigli e commissioni al mese. Per effetto dei 30,26 euro lordi pagati a presenza il consigliere della maggioranza a sostegno del sindaco Salvorubiundo è riuscito a raggranellare 2.211 euro di indennità. Subito dietro tra i più presenti in consiglio troviamo governanti, esponente della maggioranza, che in questi cinque mesi monitorati ha invece raggiunto le 65 presenze e 1.971 euro di indennità. Al terzo posto un altro consigliere di maggioranza Pietro Sollena, considerevolmente staccato con 53 presenze e 1.602 euro di gettoni di presenza pagati. Guardando invece al fondo della classifica sono tanto i consiglieri poco presenti. Il record spetta Nicola De Gaetano, consigliere anch'esso di maggioranza, che da settembre a gennaio ha appena fatto quattro volte la sua apparizione tra consigli e commissioni consigliari. Un gradino appena sopra, Rosi guida nelle file dell'opposizione, che ha messo insieme alla miseria di cinque gettoni di presenza. A ruota seguono Valentina Speciale della minoranza con otto presenze e Giusidorio della maggioranza con dieci presenze.